Voglio vedere il Milan, voglio vedere i ragazzi giocare per quello che sanno fare, per quello che abbiamo preparato, per quello che sono i nostri principi di gioco e sono sicuro che lo faremo, sono sicuro che lo proveremo a fare, su questo non ci sono dubbi, quindi sono sicuro che affronteremo la partita con l'approccio giusto, con l'attenzione giusta, con la qualità necessaria per cercare di fare bene. A me non mi interessa niente degli ultimi debbi che abbiamo perso, mi interessa il debbi di domani, altrimenti potremmo dire che noi due anni fa abbiamo vinto lo scudetto e l'Inter non ha vinto lo scudetto, ma non conta niente, quello è il passato, conterà domani, quello che mi interessa è vedere che la squadra riesca a trovare le soluzioni e a mettere in campo le nostre caratteristiche e trovare all'interno della partita, di avere la possibilità di trovare delle soluzioni per fare il nostro gioco e per cercare di mettere in difficoltà i nostri avversari. Cambiano un po' le caratteristiche dei singoli giocatori, poi vedremo sul campo quello che cambierà il modo di giocare, non mi sembra che nelle prime tre partite l'Inter abbia cambiato tanto il modo di giocare, certo che l'Inter è una squadra forte, certo che l'Inter è una squadra ben preparata, ben allenata e quindi proverà a metterci in difficoltà magari cambiando qualche posizione, dove ho messo molto bravi a leggere queste situazioni, molto bravi nel comunicare, che a caso ormai le scalate di marcatura e molto attenti a essere compatti sempre, sia quando abbiamo la palla a noi, sia quando c'erano i nostri avversari. Vorremmo diventare una squadra più dominante dentro la partita, sì, non è mai stato un dato che mi ha colpito più di tanto il possesso palla superiore più o meno all'avversario, ma credo che per le caratteristiche della squadra di quest'anno invece sarà importante avere più possesso palla degli avversari e credo che dovremo difendere molto bene quest'anno tenendo la palla più noi di loro. Ci fa molto piacere l'interesse di cardinale nei nostri confronti, credo che le qualità di un leader siano quelle di cercare di far crescere le persone a disposizione, e noi stiamo cercando di fare questo. Ho parlato anche con lui di persona delle partite dell'anno scorso con il Chelsea. Quello che abbiamo fatto vedere in queste prime partite sono sicuramente dei buoni segnali, ma è chiaro che, ripeto, è solamente l'inizio. Dobbiamo portare avanti il nostro modo di giocare, il nostro modo di essere dentro la partita con intensità, con ritmo e con velocità, e quindi è quella la strada che vogliamo percorrere.